. Il piano economico-finanziale Il paradosso sottolineato dalle forze di minoranza, è che nel piano non siano presenti voci riguardanti le richieste di finanziamento, gli investimenti che si intendono adottare per potenziare i servizi, e tanto meno le azioni che si vorranno mettere in campo per abbassare le tariffe, che restano particolarmente alte. Ulteriore paradosso, sollevato alla presenza del vicepresidente della provincia, Giovanni Bernasconi, è quello che vede l'ente Setino, in qualche modo premiato da Via Costa, nonostante le percentuali irrisorie. Bernasconi ne ha spiegato i motivi, poi il nuovo PEF e le tariffe, aliquote sono state approvate con i voti della sola maggioranza. La provincia di Latina realizzerà una rotatoria lungo la strada provinciale Segheria, in corrispondenza delle intersezioni con le strade comunali Zimaria e Piscina Scura, a Latina. Siamo davvero soddisfatti, commenta il presidente Giovanni Bernasconi, per l'avvio dopo anni di questa importante opera per tutti i cittadini pontini. La sua realizzazione permetterà di risolvere un nodo critico della rete stradale, e inciderà positivamente, oltre per la sicurezza, anche sulla qualità dell'ambiente. L'opera è stata condivisa in sede di un tavolo tecnico, con i tecnici e la Polizia Municipale del Comune di Latina e la Polizia Stradale. L'importo complessivo è di 120.000 euro, e per la copertura economica si è proceduto ad avviare la devoluzione dei residui e dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti, data l'incapacità di indebitamento dell'ente prevista dalla legge e da fondi di bilancio. Arrivano tre nuovi comandanti nelle stazioni di Terracina e Priverno. A Terracina si è insediato il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri, si tratta del sottotenente Silvio Bencivenga, proveniente dall'ufficio personale del comando Legione Carabinieri Lazio, che ha assunto l'altro ieri il comando. Il sottotenente Antonio Calabresi, 50 anni, coniugato con due figli, proveniente dal primo corso straordinario ad insaurimento, anche lui dopo un breve periodo di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è stato destinato al comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina. Saverio Guida, infine, ha assunto l'incarico di comandante della stazione Carabinieri di Priverno. Si è concluso il progetto articolo 3, Sermoneta contro il razzismo, con la cerimonia finale di premiazione del concorso di poesie. A vincere per la categoria ragazzi è stato Alessandro Nardecchia Cona, diverso da chi, per la categoria bambini Clarissa Bersani, autrice di Caro Razzismo, e per la categoria adulti Antonio Scarsella Cona, La fame e la paura hanno la pelle nera. Le tre poesie, sono state selezionate dalla giuria composta dall'assessore Antonio Di Lenola, dalla giornalista Ducia Guarano, e dall'insegnante Carla Di Vincenzo, che hanno dovuto scegliere tra 180 elaborati. Una mostra con i circa 200 disegni dei bambini è stata allestita alla biblioteca di Ponte Nuovo. L'intitolazione della rotonda di via Polusca ad Alessandro Mammucari, prevista per oggi, non ci sarà. Il sindaco Coletta ha deciso di rinviare la cerimonia. In attesa, che in un nuovo provvedimento, si individui un altro luogo della città da dedicare alla sua memoria. La consigliera Matteine ha dato notizia nella seduta della Commissione Governo del Territorio e toponomastica da lei preseduta. Il vice sindaco Briganti ha poi sostenuto che la scelta operata dal sindaco è volta a costruire, con la famiglia Tassone, un percorso amministrativo che regolarizzi l'attività di manutenzione della rotonda. I commissari presenti hanno convenuto sull'opportunità di sospendere l'intitolazione. Già nella prossima seduta si valuterà quale spazio poter dedicare ad Alessandro Mammucari. La nuova sede della Ludoteca Comunale di Gaeta, nel plesso scolastico Virgilio, è stata inaugurata. Da Via dei Frassini questo importante luogo di gioco, dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni, è stato infatti trasferito nei locali della scuola in piazza Monsignor di Liegro, completamente rinnovati in modo colorato e funzionale, e sistemati per accogliere al meglio i giovani ospiti. Il taglio del nastro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 marzo, alla presenza dell'assessore alle politiche per l'infanzia Antonella Vallo, del presidente dell'Associazione Orus, cui è affidata la gestione della ludoteca, Adriano Nardone. La ludoteca Comunale è aperta da lunedì al venerdì dalle ore 15 e 30 alle ore 19 e 30. I bambini possono frequentarla due volte a settimana a turnazione. L'iscrizione alla ludoteca è gratuita. La storia sociale di Bassiano raccontata attraverso i nomi delle sue famiglie. Sarà presentato sabato 31 marzo, all'auditorium comunale alle 11, il secondo volume del manuale, Famiglie di Bassiano dal XVIII secolo ad oggi. L'opera raccoglie il testimone di quello che, nel 2000, fu il primo volume redatto dal parroco di Bassiano Don Angelo Lambiasi. A condurre a termine l'attenta ricostruzione anagrafica delle famiglie bassianesi, l'ex sindaco Costantino Cacciotti, attuale presidente del Consiglio del Comune di Bassiano. Abbiamo ricostruito la storia sociale di questo paese, spiega Cacciotti che precisa, sebbene sia solo un appassionato di storia, ho sentito il dovere morale di riprendere un lavoro interrotto dai sindaci che mi hanno preceduto. Oggi lo studio di ricerca è un manuale che consegniamo alle future generazioni, affinché non siano mai recise le radici che ci legano a questo luogo. Sabato 31 marzo alle 16.30, il Teatro Comunale Luigi Pistilli di Cori, ospiterà la presentazione del libro postumo di Pietro Ingrao, Memoria, seguito dalla proiezione del film Non mi avete convinto, Pietro Ingrao, un eretico, di Filippo Vendegnati. L'appuntamento è promosso dall'amministrazione comunale per riflettere insieme su un'epoca che oggi appare assai lontana, ma che pone interrogativi pregnanti su cosa rimanda dell'eredità storica e culturale di quegli anni e di quel modo di fare politica. Dopo i saluti istituzionali, ci saranno gli interventi del senatore Walter Tocci, del curatore del libro Memoria, Alberto Olivetti, e del presidente dell'associazione Pietro Ingrao, Marrigo Rosato, oltre alla presenza della figlia di Pietro Ingrao, Chiara. Il Real Café Mocasir Sabaudia, esce sconfitta dall'ultima sfida prima della sosta pasquale, ma resta al sesto posto della classifica del girone B del campionato. La squadra allenata da coach Daniela Casalvieri, ha perso 3 a 1 la sfida con la Virtus Roma. Durante la partita il pubblico ha raccolto fondi da devolvere alla famiglia di Sabrina, la sfortunata mamma della zona, per la quale la città di Sabaudia si è mobilitata, visto che dovrà subire una ulteriore operazione chirurgica, dopo le complicazioni relative al precedente intervento. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video.